senta scusi senta permette io sono maurizio costanzo piacere zue che giuseppe quanti anni ha 27 bene lei è qui di marostica si sono della zona di mano ecco perché noi ci troviamo in questo momento proprio nella piazza piazza castello io vorrei che lei ci parlasse di marostica e di della campagna qui vicentina intorno vicenza di che bene la campagna vicentina è una campagna abbastanza fertile naturalmente le colture va variano da zona in zona che nel basso vicentino è più sviluppata la zocotenia mentre qui a marostica nell'alto vicentino abbiamo i prodotti cerasicoli e i rapporti fra gli agricoltori più anziani gli agricoltori più giovani quali sono gli agricoltori anziani hanno una mentalità un po po retratta nei nostri rispetto ai nostri confronti noi invece giovani siamo più portati verso la cooperativa verso la cooperazione perché siamo convinti che sia quella sia la via migliore